Voglio condividere con te, quello che è rimasto tra di noi, non portarti indietro adesso, nei tuoi occhi il mio riflesso, voglio condividere con te. Voglio condividere con te. Io mi sento San Luca, lui si sente San Renato? Adesso no, non penso. No? No, ci sono delle cose da cambiare. Amici, allora come ogni lunedì naturalmente grazie per tutto l'affetto che ci avete regalato, mi ha fatto molto piacere ricevere i tantissimi messaggi di ringraziamento anche per aver ricordato il maestro Vittorio Borghesi. Ma io, Novella e tutta la redazione di Musica Nostra Vita Varietà l'abbiamo fatto veramente con il cuore perché quando parliamo di questi grandissimi personaggi poi è bello che nella puntata di Il Mondo si è parlato della tradizione borghesi e della tradizione bergamini. Due grandi personaggi che hanno reso grande la musica da ballo. Allora vi ricordo già l'appuntamento di venerdì perché per la ventiduesima puntata di Musica Nostra Vita Varietà arriverà il grande Omar Kodassi. Mi raccomando, è venerdì ore 21 Omar Kodassi. Ma adesso invece parliamo in questi giorni ancora per ringraziare Edmondo Comandini che è stato con noi in questa ventunesima puntata. Andiamo sul palco perché questo è quello che ci ha regalato Edmondo Comandini. Vai! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti